dovremmo essere in live mi sentirei da mare perché già adesso abbiamo visto io e Mirko in privato qua dovremmo andare a fare live che è scatto quindi vedremo un attimo cosa si riuscirà a fare nel mentre noi proveremo anche a chiacchierare un po' intanto è partito tolgo l'audio qua infatti vedo dal vedo dal secondo schermo che non si vede più male io non so come sta andando in realtà se funziona bisogna essere abbastanza correvole abbiamo pensato di fare una questa live chi vuole entrare potrebbe entrare un po' per chiacchierare un po' per proporre argomenti anche come va magari anche delle nostre esperienze passate di cavo che sono tante ormai sono tantissime però il minimo il minimo indispensabile esatto esatto adesso tu mi consigli sulla sinistra c'è la no per tutta la cellula sì sulla destra sulla destra c'è un commenti sì 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 non dovrò comparirli dentro non è detto però vediamo un attimino ok tanto se qualcuno vuole scoprire anche solo la faccio capire se funziona oppure no se non c'è la funzione è arrivato però non arrivano i commenti e io lo vedo dal secondo schermo come al solito se non c'è la funzione ma ecco 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 vi vedo vi sento malino soprattutto te Marco si sa con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione è un problema che vi faccio caricare i video perché come dicevo ci mette di giorno a caricare un video anche la sua mi diceva che non è che stia andando proprio esattamente rapidissima troppa gente allora intanto benvenuti tutti che stanno entrando vedo già anche Alessandra che ci scusa e vedo che siamo già un attimo di iniziare a parlare ciao Ale si sta molto dopo di loro aiuto beh giusto come sta andando in questi giorni? come sta andando? eh come sta andando bene si studia latino si va a fare la spesa è il minimo e beh niente sto leggendo un sacco di cose che mi sono lasciato da parte perché comunque non posso più lavorare quindi almeno mi hanno lasciato a casa per ora e quindi ho una marea di libri che ho lasciato in sospeso e sto finendo meno male perché sarebbe fiero di te e quindi esatto esatto e poi vabbè sì sto facendo questa grossa cosa per il FAI sono tutti questi video che parlano di ma sostanzialmente artisti particolari e sto montando tutti i video che mi mandano quindi è una roba infinita ma si fa tanto per caricare eh cosa? dove li cliccate? allora adesso per ora li stanno dando in una specie di programma su Vimeo di un consorzio qua di Savona vabbè è un po' un casino da spiegare però li mandano tipo domani ce ne sarà uno e poi probabilmente li caricheremo tutti su un canale youtube che dovrebbe apparire a breve ok quindi sì devo mandare il link che si chiama il FAI da te cosa? niente non posso non arriva si chiama il FAI da te ah sì sì tra l'altro quest'anno avranno un buco di due leoni tipo perché non potendo fare le cose tutte cose cose del genere ma penso che un po' in generale in tutto il mondo diciamo della cultura quest'anno sarà una bella batosta siccome già siamo mesi bene ci vogliamo un po' allora vediamo un attimino di parlare di cose di che che è il tuo primo scavo primo nonché ultimo no sì nel senso che mi è capitato solo per ora quasi e quindi ecco mi è chiedere dettagli chiedere spiegazioni sì 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 spiego un attimo come funziona allora anzi faccio la storia generale di come è partito tutto così almeno teniamo un po' di allora parte tutto 2018 nel 2018 quando io non ho più lezioni da seguire all'università per non pagare un affitto inutile su a Torino decido di riscendere nella mia città natale la povera Savona e niente quindi eh sì Savonese ormai quindi niente praticamente quasi subito una mia vicina di casa in realtà eh se ne esce fuori con questa notizia che cercavano gente per scavare sostanzialmente su eh in un sito qui in città tra l'altro attaccato a casa mia è una fortezza gigante del Cinquecento vabbè eh che è costruita sopra una collina che era il nome è Priamard Priamard che in cioè sarebbe tradotto sarebbe proprio pietra sul mare eh perché infatti è una collina rocciosa è molto piccola e ora è completamente sovrastata da questa fortezza e quella lì è stata anche il nucleo della città di Savona e per questo che abbiamo un sacco di cose lì sopra e ma la cosa più importante più famosa era questa cattedrale che una volta conquistata la città da parte dei genovesi loro hanno deciso bene giustamente di buttare giù perché non serviva più è un fatto interessante anche questo e quindi niente una volta costruita la fortezza la cattedrale l'hanno usata per un po' come polveriera in realtà e poi esatto è lui è un bel bestione e poi niente hanno deciso appunto di distruggerla completamente raderla al suolo e noi stiamo cercando di tirar fuori quello che si può e in realtà è uscita un sacco di roba e i primissimi primissimi scavi sono stati fatti già negli anni 60 50 60 dall'amboglia importante archeologo direi nazionale perché ha portato un po' il metodo esatto e poi niente è continuato fino fino ad oggi c'è un sito in realtà si sta scavando da da tantissimi anni in particolare si trova esattamente da questa parte questa qui è una statua di pomodoro che in realtà non c'è più era una un'installazione ok si questo muraglione gigante è una cortina la cortina di San Biagio si chiama e là dietro dove vedi quel quel piccolo tetto che esce è un palazzo vabbè a settecentesco quello lì di fianco praticamente tra quell'edificio e gli alberi che escono c'è il sito lì in mezzo sì molto più in là diciamo perché da questa parte c'è la città noi siamo dalla parte della città dietro la fortezza c'è il mare e quindi niente sì è quello e niente quindi e questa è una persona sì sì esatto esatto ah sì per far vedere giustamente è veramente gigante e niente quindi ho cominciato lì ecco e ho continuato in realtà poi questo praticamente fino a marzo 2019 ho iniziato a scavare a ottobre novembre 2018 e quindi fino a marzo 2019 ho scavato fino a lì poi è scaduta la concessione poi magari parleremo anche di questo fatto delle concessioni lasciamo stare lasciamo perdere e niente quindi ho continuato la mia attività in museo perché sulla fortezza è presente un museo è un museo archeologico con tutte le cose ecco è interessante perché è un museo archeologico fatto sostanzialmente di reperti quasi completamente anzi cioè praticamente tutti derivano dal sito in cui è stato fondato il museo quindi è interessante anche queste cose e tra l'altro in Liguria è l'unico museo che fa ricerca che fa scavi lo faceva anche il museo di finale Ligure famoso e anche quello di Ventimiglia facevano scavi ma ultimamente negli ultimi anni non hanno più agito ecco quindi il nostro di Savona è l'unico l'unica istituzione museale a fare ancora ricerca e di questo sono molto fiero è molto bello cosa stiamo facendo adesso immagino però eh no ovviamente no ma direi che per quest'anno non saprei non saprei vediamo dopo l'estate non so molti iniziavano a maggio giugno eh sì sì infatti di solito noi almeno noi iniziavamo verso settembre ottobre perché al direttore di scavo non piace molto esatto maledetti genovesi e al direttore di scavo non piace molto scavare d'estate ma questo è un altro discorso e quindi quindi sì ci siamo ritrovati in situazioni vabbè lasciamo no no per quello sì 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 per quello è vero poi sono tutti anziani voglio dire un po' pericoloso ci siamo ritrovati in situazioni tipo alle 5 di sera in pieno inverno con un vento incredibile che arrivava dal mare a fare le ultime cose freddo totale però è divertente fa parte del gioco direi scavare è sempre divertente anche quando sempre scusami no sempre no perché ci sono delle situazioni in cui dei colleghi sì è meglio che si fanno a casa però no sì infatti anch'io a volte cioè parlando con i miei colleghi dell'università alcuni ti dico si sono trovati abbastanza male ecco e da lì tra l'altro magari hanno avuto quell'unica esperienza che non gli è piaciuta e da lì hanno deciso che non gli piacevano più non gli piaceva più scavare ecco sono i lavoratori esatto esatto cosa ti perdi vabbè i messaggi arrivano dopo un sacco sì può essere sì sì purtroppo non so se di base prende oppure prende no non so vediamo un attimo volevo mandare il link della live si lo mandavo alla mia ragazza che me l'ha chiesta cosa facciamo fare ancora aspettare che riaprono tutti gli scavi sì ci sono alcuni che iniziano molto più avanti il nostro parte alla metà di agosto 3-2 di agosto oppure anche perché in Sicilia lì si inizia se non riformare inizio settembre addirittura però i preparativi partono sempre comunque intorno almeno aprile maggio e beh sì ci sta nel vostro caso è molto più strutturato immagino cioè noi voglio dire sono tutti volontari ecco forse non dovremmo dirlo no sì 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 però dico oltre ai ragazzi dell'università che tra l'altro sono due al massimo cioè perché non è che ci venga poi così tanta gente e no il resto che alla fine sono le solite tre persone diciamo che sono appassionati ecco non proprio archeologi ma facciamo finta di niente e infatti devi starci un po' vabbè farete in diretta nazionale no vabbè se qualcuno del ministero però sì è divertente per questo fatto io direi che intanto ci ah non riesco qua eh che crudelità non mi opre ecco qua quando sarà di nuovo possibile consiglio a tutti quanti di andare a fare un bigliettino qui che siamo allo stagnone di marsala o di trappani vabbè tra trappani marsala allo stagnone appunto si trova in mezzo allo stagnone la bellissima isola di mozia che ben conosce non riesco a non voglio aprire ma me la solo piccola vabbè si si nota invece io lo batterò ecco visto lo battito stranamente verde in questa foto perché di solito non è così verde dove si possono vedere le strutture antiche è tutta circondata da un muro qua una porta ci si arriva solo a nuoto giusto? a nuoto non lo auguro molto perché è l'acqua di uno stanno quindi è sempre male perché in fondo è collegato però il problema è che è acqua stagnante quindi bassissima tra l'altro deve essere se non ricordo male un metro e venti di profondità le barchi infatti vedo che seguire molto bene e qui mi arriva sta cosa qua c'è la strada che la collegava alla terra che adesso è tutta completamente sommersa però io vi consiglio di andare intanto per vedere la Sicilia in generale che è straordinaria la Sicilia in più per visitare anche Mozza perché effettivamente è una piccola perla dell'archeologia da noi in Italia che ancora credo pochi conoscano in realtà perché se non sei indirizzato all'oriente e così via ne ho sentito parlare poco in realtà anche se è veramente meraviglioso nulla c'entra che sia dello scavo dell'Università di Roma nulla c'entra che ci sia stato ovviamente è che è proprio bella 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 qui si trova anche il fantastico straordinario F. Bodimozia che è una stata stupenda te la ricordi perché di sicuro l'avrei studiata e avrei dovuto darci un esame sopra ma può essere può essere può essere va bene e dov'è qua e diciamo anche da parte di Tommaso che però il messaggio continua a non arrivare di qua quindi lo mando incredibile me lo passo di qui dalmeno riesco a vedere i commenti a tutti i commenti non so che non potete più vorrei scrivere o no? ma io non voglio fare video a questo ma da qui ma lì così ecco qua vabbè ora stia andando un po' meglio devo dire come connessione incredibile avremmo detto anche in chat di qua finalmente così posso prenderlo e metterlo sotto vedi sotto pancia bellissimo figata quindi se volete fare domande fatte approfittatene io vi metto qui sotto anche così si vede bene e noi proviamo a rispondere alle domande che fate ok sì sarebbe e con noi intendo Mirko ovviamente avrà il punto di disegnare quello che avete posto nella chat telegram così vabbè la Nike di Samotras anzi la Nike la Nike diciamolo come si deve cioè se dobbiamo no allora bene 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 la Nike di Samotrasia proprio il top forse il top e così via poi parliamo un po' io penso a Mirko di andare a far visita a qualche posto in città se usciamo di casa o no sì sto allora sto cercando un attimo arrivo porca miseria ah eccolo perché volevo entrare qui in live fare condividi che mando la live a un po' di gente e vediamo se join qualcuno va bene ok quello giusto va bene quindi niente dove vogliamo andare dove vogliamo andare non lo so io adesso sto un attimino facendo una cosina che potrebbe ecco qua vediamo eh sì eh sì eh sì sembra buono no fa finta di essere giusto ma non lo è però forse è giusto invece perché ci sono scavo qua vediamo allora vediamo condivido a sorpresa che Mirko non lo sa dove hai trovato sta roba google ecco a parte il cestino dell'immondito questo 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 è un livello è una foto vecchissima sarà del 2016 questa foto perché quel buchino lì adesso praticamente lo scavo si estende in tutta la zona recintata ok siamo ancora lì dentro e ci siamo avanzati e siamo avanzati fino a mangiare questa panchina qua sotto ovviamente sono state spostate le panchine no quando uno è stanco ci si siede esatto e questo qui vabbè questa qua è la piazza della cittadella comunque per dare un attimo di la piazza della cittadella della fortezza un tura petra non male e invece quel palazzo lì di fronte è quel palazzo settecentesco di cui vedevamo un po' il tetto da sotto palazzo della Sibilla chiamato così era un adibito diciamo inizialmente a magazzino poi a celle per i soldati e niente noi invece tutta la chiesa era esattamente qui sulla destra dietro a questi grossi alberi purtroppo vabbè sì 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 proprio in quella parte lì dove c'è questa foresta diciamo perché non era ancora stata ripulita e qui dietro c'è tutta la parte absidale che si estende fino alla fine delle mura che sono da qui dalla recensione laggiù sono 60 metri è un'area enorme no assolutamente è un'area enorme e sopra alla parte alla zona absidale era stato costruito un edificio la casa del colonnello si chiamava quindi adesso e in più tre bunker nazisti nel 43 quindi quella zona laggiù e dietro dove c'è quella foresta è di una lettura complicatissima non si capisce niente ed è veramente figo perché c'è una una stratigrafia in realtà non profondissima non è quello però veramente dal dall'alto medioevo alla fine fino al 43 vediamoci e vediamo un attimino come è la condizione di questo progetto cioè non è che fosse una cosa dove uno riusciva ad entrare no no assolutamente tra l'altro bellissima perché ad esempio vabbè questa qui quell'edificio lì sotto è una polveriera dove ci sono i giochini adesso dei bambini era una polveriera e anche questa costruita in realtà alla fine del 600 e si vede che ha un doppio muro ha un intercapedine in mezzo perché nel caso fosse esploso tutto avevano un sistema di sicurezza in più la cosa divertente di questa fortezza è che è stata costruita dall'inizio del 500 poi si è espansa fino al 700 è stata attaccata una sola volta nel 1744 dai piemontesi durante la guerra di secessione austriaca vabbè è un casino e l'unica volta in cui è stata attaccata è stata conquistata quindi non sono stati neanche buoni perché quando facciamo il tour genovesi sai come non sono buoni a fare niente no sostanzialmente quando facciamo il tour della fortezza con i gruppi facciamo vedere tutti i sistemi di difesa di sicurezza eccetera una roba incredibile dura due ore più o meno questa cosa e quando si arriva al momento di raccontare l'unico attacco che ha subito fa un po' ridere però è andata così e niente quindi è successo poi sostanzialmente tutta la fortezza ha smesso la sua vita da diciamo luogo di difesa nell'ottocento perché poi è diventato un carcere militare fino alla seconda guerra mondiale praticamente poi dopo la seconda guerra mondiale è stata completamente abbandonata e negli anni settanta si è iniziato un attimo a ripopolare e la prima cosa che ci fecero furono le le feste dell'unità e poi niente invece adesso è aperta l'entrata è gratuita tra l'altro ci si può andare quando vuoi e niente è un po' diciamo abbandonata se stessa ma perché per la cattiva gestione del comune perché non sono ecco è anche un po' difficile da organizzare perché comunque è un'area enorme e non ci sono i fondi ovviamente come sempre per fare tutte queste cose e quindi è morta è un po' morta così e noi cerchiamo di ritirarla su pian piano ma è difficile però dovremmo fare un giro una volta dobbiamo vederci tutti venite qua la prossima estate va così aspetta un pochino perché eh sì 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 andiamo a mangiare un po' di focaccia e poi facciamo il giro della fortezza è così che andrà a finire prima che tu parlavi abbiamo visto anche un commento di Tommaso che giustamente come al suo solito chiede di fare un tour a Petra diciamo un tour a Petra dai e Stefano andiamo lo prende in giro perché è sempre un mood di Tommaso chiedere di Petra però noi possiamo sì ci andiamo sempre se mi carichi a che sta funzionando eh che non è detto apparentemente no cosa su 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 il miglior tour di Petra è farlo e tu cacciare la fortezza eccolo la prima cosa che esce sta roba qua veramente lo scelta a posto ah ok ma è fantastico vediamo se siamo precisi beh è un orologio almeno bellissimo questo ti va al braccio no beh in effetti è un po' vabbè io vorrei quella lancia possibilmente guarda che bel dettaglio che si riesce a vedere ovviamente vedrete tutto a quadrettoni visto che parte dal mio computer no no ma si vede abbastanza io non ci sono mai stato non so voi neanch'io c'è stato Tommaso quindi se Tommaso ci parlerà di tutto mi sembra logico aspetta vediamo se riesco a trovare albeir tipo dovrebbe essere più avanti qui ricordiamo ovviamente che c'è la scena di Indiana Jones con allora parliamo del fatto in quanti hanno iniziato a studiare archeologia per Indiana Jones ok in quanti in quanti alla prima direzione di archeologia ci sono rimasti male perché non saremmo stati seguiti da palle giganti però conosco moltissimi che poi dicono di odiare Indiana Jones e di non essere arrivati all'archeologia per quello ma è sostanzialmente impossibile o Indiana Jones o Jurassic Park perché si inizia più o meno così cosa Jurassic Park no lo so per dire perché tra l'altro in Jurassic Park fanno vedere più scene di scavo che in Indiana Jones se non sbaglio e di quando poi dopo arrivi all'università arrivandoci da Jurassic Park veramente ci rimane male perché dici ah ma allora ma allora e allora lasci tutto ma tra l'altro paleontologia ma c'è solo a a Pisa o no c'è anche da altre parti c'è ovunque io non ho mai sentito da nessun'altra parte possiamo fare una ricerca molto rapida facoltà di paleontologia ma perché beh già mi è stato fuori Bologna c'è anche a Parma ah Parma sono stato da poco e ma da te è quando quando c'erano le giornate del FAI che quindi non avevo una vita perché ero continuamente al teatro a seguire le cose allora ci dovrebbe essere tutto il parco archeologico dice Tommaso su Google Street più da lo fa ah lo fece lo fece lei lo zaino in spalle con le telecamere ah ok ok questa non la sapevo ok no si tra l'altro utilizzava l'energia elettrica prodotta dagli egizi sì è vero per metterlo online esattamente con le torce di dendera esatto giusto intendevi quello no sì 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 quello con il catalizzatore della piramide che riceve la ricevitore sì 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 e poi il famoso 1G separato sì sì mi parevano stato i tizi beh sarebbe interessante sarebbe bello avere tutte statue di cera vabbè a parte che si scioglierebbero in 3,0 secondi tutte statue di cera messe lì ah ma no forse intendeva forse intendeva i tizi all'entrata quelli vestiti da soldati ah ok ma intendevo tutte le persone in queste foto ma si può una malattia no 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 credo e non riesco a capire vabbè ma vabbè andiamo in un posto che sappiamo funzionare giusto infatti giusto di cui farò il post domani ma e spaventiamo bene eh ma qui ci vorrebbe Flavia altro che vabbè noi almeno facciamo servizio di traduzione testi per chi non conosce bene l'inglese giusto va bene chi ha detto che noi lo conosciamo poi vabbè questo è un altro discorso allora ti sei preparato certo e qua quello che dico tu e allora questo bellissimo sito io veramente il giro non l'ho ancora fatto però i feed sembra carino sì sì niente speravo di poter stare un po' più centrale ma non si riesce a quanto pare no no controllo sì lo vedete giusto perfetto quindi qua siamo un'entrata che cosa ne c'è un po' troppe cose allora dicevo questo qua è un sito che è stato creato da vediamo Harvard forse Harvard però ho visto che hanno fatto altre cose con unity per le piramidi ad esempio c'è la piramide di cave così via no con unity unity sì opera non lo fa andare oh sì sì no non lo fa andare questi li ho visti sono ti ci puoi muovere all'interno con la tastiera benissimo vediamo se me lo carica in tempi umani perché non è proprio rapidissimo allora voglio provare un attimino anche il resto che c'è ho quasi un progetto ad Harvard quindi immagino che siano tutti i progetti di Harvard anche quello della tomba della regina Merensac Merensac scusate vediamo se funziona oh bellissimo sotto è un po' scomodo in realtà perché ecco qua spero di non farvi venire mal di male che viene a mezzo ti stai strisciando tutto il ecco qua aiuto ah lì c'è la mappa in alto c'è la mappa in alto l'extra cosa 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 è successo che è successo che si è capovolto tutto non so ma è fantastico così è molto più bello cioè sarebbe stato fantastico dobbiamo uscire dall'esterno no andiamo ancora più no perché no perché è il mondo sotto sopra no cioè quando vai sotto terra esatto siamo dall'altra parte del mondo praticamente in Cina ah no ho sbagliato devo andare di là comunque si dicevo quindi abbiamo la camera progetti qua inimiti che sono molte cosa sta succedendo sono molto molto però sono quasi sì sì vediamo quando usciamo dove andiamo a finire cadi nel cielo praticamente vediamo sì sì aspetta proviamo a fare l'esterno no si rigida di nuovo ci siamo sì 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 ma puoi anche salire proprio ah ok ogni volta che cerco di direzionare la la visuale cade tutto eh sì ma che tra l'altro è una cosa iper illegale però facciamo finta di niente che cosa ah salire salire sì sì se sali così mori anche secondo me sì a parte che non finisci bene il problema è che appena tocco per cambiare la visuale si avvolge e quindi ehm al momento non è molto fluibile beh il punto di vista vabbè comunque c'è una cosa intelligente interessante certo potete andarci anche voi basta schiacciare qui ma il sito con la tomba della regina Messang terza questo qua my.matterport.com barra show barra e qui potete veramente vedere tutto adesso non so se dallo schermo lo vedete bene sì 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 direi di sì tutto un fatto molto in alta definizione beh è fantastico se lo fate voi le vedete benissimo diciamo così marca così qua direi che c'è l'ingresso non la conoscuro questo tomo quindi non so no vabbè ma cos'è sì no direi che è una una mastaba o mastaba è una mastaba sì però infatti lo è so che è della quarta dinastia però altro aspetta ecco qua lì sarebbe ovviamente un egittologa la grande le foto sono le foto sono incredibili le foto sono incredibili il movimento ne ho visti pochi fatti così bene poi sì infatti è strano comunque ognuno di questi cerchi ha una posizione ok ok e la cosa ancora più buona ragazzi è che se puntate sopra un punto di questi sui muri vi dà la descrizione di tutto se vi riuscite a vedere ovviamente ci giriamo un po' meglio così ad esempio qua dice che Kawab tipo Kawab così era il padre di Meren Sank e che però devo mettere a comodo lo schermo altrimenti ci vedo malissimo e il figlio anziano del re sì purtroppo non ci leggo aspetta faccio fatica anche sugli occhiali allora Kawab hai trovato sì stavo un po' di roba qui sopra aia la figura più grande dipinta all'interno della tomba come scusami in effetti è abbastanza che diceva che la figura più grande è dipinta all'interno della tomba in effetti è un bel bestione sì sicuro è un po' più piccolo effettivamente poi tutte quelle statuette interessanti un po' più 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 bene ci sono anche le ricostruzioni con i colori perché ricordiamo possono rimanere i pigmenti all'interno che qualcosa aveva loro oppure no come avviene anche per le statue greche ad esempio che ovviamente non erano bianche ma erano dipitte ormai questa cosa direi che la sanno un po' tutti spero no no ok facciamo finta di non dare sempre a fare altre cose no bellissimo comunque ti ricordo che c'è ancora chi crede alle piramidi come granaio o pista di atterraggio vabbè ma lì è un livello superiore di conoscenza noi stiamo parlando di cose normali le coppie ah quella è una falsaporta direi sì lo è quella lì in mezzo ha le due sì perché sai eh no quella è proprio in mezzo qui ci sono due coppie ecco esatto ah sì 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 ok bene invece ah vabbè la ricostruzione falsaporta e di quella falsaporta cosa dice vediamo la ci a un certo punto del giorno il sole cadeva direttamente finiscevi dentro ok aspetta vediamo giriamo ecco l'incredibile finestra che è un taglio tra l'altro un po' bernissimo come finestra sembrano quelle di di Le Corbusier quei tagli lì anzi di Scarpa Carlo Scarpa architetto vabbè sono sono di formazione architetto quindi questo è il mio problema e poi si può andare ah ti fa proprio andare pianerottolo per pianerottolo giustamente il mio di frost fondi è qui perché immagino anche il fetto qua dentro eh farà un freschetto sì 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 e voilà ah bella la luce piazzata lì così però utile non deve essere bello vabbè facciamo finta di niente bellissimo qui e qui ovviamente c'era proprio nella roccia il bel sarcofago scavi di Reisner anni venti sarcofago eccolo lì sì doveva essere qua e poi questa stanza era piena di tutti gli oggetti che potevano servire diciamo nella vita dell'aldilà quindi tutti i mobili oggetti vari immagino che questa sia stata una delle delle migliaia di tombe depredate già al tempo in antichità intendo vediamo se c'è scritto il sarcofago vabbè sarà in qualche museo immagino cioè sarà al Cairo se c'è scritto la madre le ha regalato no non c'è scritto nulla sul fatto beh c'è scritto perché lo scopriremo l'hanno ritrovato di sicuro sì beh infatti ho visto anche una una ricostruzione quindi quello c'era questo eccolo e lei sarà vera e sangue e qua dice che è 5 metri sotto il livello superiore vabbè 5 metri quindi quella di scena che mi ha appena fatto erano 5 metri che anche solo pensare di venire a scavarla sì chi l'ha creata questa stanza poverino con i mezzi perché vabbè di certo non utilizzavano escavatori o cose incredibili calpellate sì infatti si vedono bene bello beh intanto molto bella ma cosa rappresentavano quei stati femminili ma cosa rappresentavano quei stati femminili ma non nello specifico adesso non saprei sicuramente rappresentavano o lei con la famiglia perché sì quando sarà lei con con qualche parente cose del genere c'è scritto no allora eh sì infatti qua c'è scritto che Merenka a fianco ai suoi parenti ah ok è una riproposizione diciamo di tutte quelle statue nell'altra sala nella sala c'erano tutte quelle lì messe di fianco nella sala quella sulla destra entrando ah ok qua dove c'erano tutte tutte le altre quel gruppo ecco ecco sì lì tan 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 queste e anche in questo caso come potete vedere stay at home perché non possiamo uscire fuori sembra fatto apposta ovvio che cosa c'è scritto no non si può guardare fuori credo aspetta ok credo di poterlo farlo partire ah un tour un video tour sappiatelo sarà in inglese probabilmente però poi magari un giorno ci organizziamo meglio facciamo questa live è partita semplicemente che ieri sera ho detto Mirko domani ci sei va bene e poi io sono impegnato nel negozio e lui è stato impegnato per mi dicevi un lavoro sì e montare video per altri e fare e fare versioni di latino non ci siamo sentiti fino a 5 minuti prima di entrare no però è sicuramente un'ottima idea questa qui e soprattutto sembra fatta bene sembra fatta molto cioè sinceramente proprio la più bella la qualità è incredibile qui sono dall'altro lato della stanza sembra vicino al massimo sì sì infatti benissimo che e se vado di qui li vedo ancora meglio vedo anche anche le scrittine tutto in questo caso si legge quella striscia lì sopra questo gruppo di uomini quello sotto diciamo esatto qui a sinistra sì sì ah qui sì questa si legge da da sinistra a destra si va incontro a dove guardano gli animali è vero è vero è così che si leggono i gerodifici poi vabbè cosa ci sia scritto questo è tutto un altro paio di maniche no il bello è che sapendo alcuni alcuni simboli come si leggono tipo è come leggere alcune lettere così a caso però è un casino cioè è molto complicato saper leggere bene i gerodifici però è divertente quando ci si riesce e devi impararlo comunque per anni perché sì assolutamente io ho un librone che adesso credo averlo prestato una mia amica ho visto si trova ancora al museo egizio addirittura al bookshop però è fatto proprio per per studiare il gerodifico sì che come l'hai visto quello con la copertina è blu non ricordo mai come si chiama beh un po' molaccio adesso ok vecchio no ma non è il Gardiner no beh il Gardiner è infatti è a parte che non si trova da nessuna parte io l'ho cercato per anni ma non è fattibile questa cosa non esiste vabbè e intanto Tommaso dice una notizia un po' ah no non è stato Tommaso dare la notizia però vabbè ce la teniamo per noi per il nostro chat privato Tommaso piange e rovide diciamo così a quanto siamo di video ormai non c'è nessuna parte c'è un'oretta 53 minuti sì cosa dici è il momento di terminare questa prova e dire che se adesso sta meglio bene mi confermi che non si sente ma sì sì all'inizio era un casino non ti sentivo allora dico sinceramente quando ho fatto l'altra prova se scatta che sono da solo è impossibile da tenerla la perché ovviamente se voi mi perdete non no non funziona se siamo in sì è un casino due tre quattro a parlare se anche solo uno ha un problema gli altri continuano e organizzandola si riesce a fare quello che uno vuole comunque magari se ne parliamo per bene ci organizziamo sì 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 vediamo di parlare un po' di tutto io qua vedo i reperti i reperti di Pompei giusto? tanto così per di sotto nei video consiglianti a parte quello sotto la chat fantastico no vabbè sì sì comunque dove 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 si può fare così no sì proprio lì sotto esatto quello vicino al tasto iscriviti ai segreti di Pompei ai segreti vabbè non si legge bene poi i segreti ecco vogliamo parlare di questa cosa vogliamo parlare del del alieno perfetto no dovremmo parlare del fatto dell'utilizzo di certe parole legate all'archeologia tipo misteri tesori tutte queste cose qui che creano soltanto confusione esatto soprattutto tesori infatti un bel po' ho smesso di utilizzarlo che giustamente Alberto Angelo lo usa ancora per dire non ci pensi non ci pensi e non ci pensi non ho mai pensato neanche anche se l'ho spusato poco e mi ricordo che all'epoca facciamo la live con Antonio sul suo istituto aveva chiamato la live i tesori dell'archeologia parlo ormai di quattro anni fa cinque anni fa e mi ricordo di avergli detto ma tesori però poi dopo avevano tenuto tesori e va bene però recentemente parlando con la Calandra lei aveva fatto Calandra che era direttrice dell'ICA il senso centrale per l'archeologia aveva giustamente fatto notare che se tu dici tesori tutti i tombaroli eccetera non vedono l'ora per trovare i tesori e buttano via spesso e volentieri le cose che che ci servono ma che in realtà per un archeologo sono estremamente importanti distruggendo poi tutta la stratografia che è ancora più importante vabbè quello si si è proprio la prima cosa che se ne va bene una live sui termini da non utilizzare o anche come in generale termini che si utilizzano magari sì sì ma anche ad esempio l'etica sul tirare fuori dei morti dalla terra per dire così su come si si toccano si utilizzano le ossa insomma questi questi temi qui che sono sinceramente sconosciuti ai più e non ci si pensa comunque perché uno da fuori da fuori può dire cioè ma chi ti dà il permesso di andare sconvolgere la tomba di una persona a caso solo per per i tuoi studi però pensi con la mentalità di oggi che è anche molto diversa di quella degli antichi decisamente tra l'altro anche andando su quella linea potremmo parlare di visto che in questi giorni si parla anche di economia commercio e così via di scambi e le varie tipologie mi stavo rileggendo poco fa con così uno studio che sto facendo sulle varie tipologie di appunto scambio dell'antichità perché fino a prima la moneta non esistivano commerci non puoi parlare di commercio e poi c'erano molti studiosi che valutavano se utilizzavano scambio baratto ok ok sì 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 ecco un po' parla di una cosina poi dopo vediamo Tommaso dice scambio e Stefania dice prossima live come mi diverto usare questa cosa qua sotto sì questo è veramente utile finché siamo pochi è utile in tanti perché tu prendi magari stai parlando di un argomento chi fa la regia blocca tac uno prendendo la civa la tdb e poi quando è venuto quando finisci la prendi e così via molto buona molto buona bene bene è arrivata solo per noi posso scrivere ah sì ho visto ho visto grazie è utile 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 e così dovrebbe anche alleggerire molto di più la live e trasversale addirittura sì 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 io direi che come primo esperimento possiamo dire è andato ci mettiamo grandi perché noi siamo dei mangioni ecco così qua va bene prossimamente è lunedì se vuoi anche vedremo sì di organizzarci gli altri se riescono a venire come riconvolgiamo anche qualcuno di esterno che ne so sì 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 qualcuno che magari abbia qualche domanda particolare ma sai Giovanni neanch'io vado dal parrucchietto come era Giovanni vabbè è quello di Mattarella vabbè quei miei mini grazie mille per la presenza grazie mille a Stena e tutti gli altri che sono stati in chat non mi sono perso nessuno credo forse Eric non mi sta no non mi pare ok noi ci vediamo alla prossima poca direi a lunedì va bene ok perfetto ciao a tutti allora io che ti dico non saluta no no sì stavo salutando è che aspettavo che ecco perfetto niente allora saluto e ci vediamo la prossima volta stavo aspettando che finissi di parlare a posto a posto ciao a tutti Grazie a tutti.